Buongiorno professore Professor Zerborn, chi era Jacob d'Ancona? Jacob d'Ancona era un mercante ebreo di Ancona, un uomo molto saggio, come si vede dal suo manoscritto, si può dire un sapiente, vero nel senso, anche aveva conoscenza rabbinica perché fa molti riferimenti ai testi del Talmud. Conosceva anche la medicina perché ci sono riferimenti nel manoscritto ai trattamenti che lui ha fatto alla sua serva per esempio. Un uomo sarjankin questo senso, un dippoli filosofo. Un uomo sarjankin questo senso, un uomo sarjankin questo senso, un uomo sarjankin questo senso. Grazie a tutti